Sono allenatore di una delle squadre che fanno parte del Santo Ambrose FC, una società calcistica nata nel 2018 che ha sede a Gorla e che si propone come obiettivo quello di garantire l'accesso alla pratica sportiva a ragazzi e ragazze che altrimenti non ne avrebbero l'opportunità. Abbiamo iniziato rivolgendoci soprattutto a persone provenienti dall'accoglienza, ancora adesso molti dei nostri atleti sono di provenienza straniera la mia squadra ad esempio è composta da 30 ragazzi in rappresentanza di 15 nazionalità diverse. Abbiamo 4 formazioni, 3 maschili e una femminile per un totale di un centinaio di atleti e una bellissima tifoseria che ci segue su tutti i campi dell'Abrianza. Cerchiamo di raccontarci come una comunità prima ancora che come una società calcistica.